good morning si qui sono le diciamo mezzogiorno meno un quarto ma io mi sono svegliato addirittura alle otto stamattina circa alle otto ma poi mi sono riaddormentato mi sono svegliato appunto da ventina di minuti fa ma lo dico in questi casi appunto certo non la mattinata mattina prestissimo la mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente david linch it's march 23 2022 and it's a wednesday here in naples wednesday my favorite day here in naples uh uh clear morning very still right now 16 62 far net around and it's that it is that they really 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 soft like in this days in this period si proprio clima primaverile bene che dire per quanto non c'è nel video pensiero come sempre nel caso lo faccio separato da questo anche se non credo che lo faccia perché un po' non ho nulla da pensare e poi stavo pensando al video di ieri e al video pensiero di ieri che ancora non sono riuscito a caricare quindi credo parlaquillo ancora come pensiero di oggi quindi occhio anyway i see and you all just see from the window it seems that this afternoon temperature going to be up to a few degrees qualche grado in più io credo ma vedremo ovviamente su questo non siamo dei maghi lo possiamo servire si manterrà sullo stesso livello but the really important thing with this atmosphere is that surely we are going to be enjoying those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way all along the way ovviamente qui si intende qualche altra ora perché poi comunque dalle 5-6 in poi già farà sera ma bene così speriamo di continuare con questo trend che anche domani e anche ieri è stato così comunque anche domani speriamo di continuare così per cui said this so from the mythical window with the color of the curtain sublime oggi nulla da dire and it's green roller shooter behind me on the top not visible infactor in the shot and finally from the mythical keyboard amadigix 640 ipg 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 625 e great day in all the people follow the channel the reports un saluto davvero a tutti ci vediamo nel caso sempre a video pensiero anche se ripeto non credo e lo faccio penso valga più quello di domani dedicato a angelo badalementi anche molto lungo spero vi piacerà o domani